L'Atletico Catania esce sconfitto dal Valentino Mazzola al cospetto di un cinico acireale che ha capitalizzato le uniche palle gol capitate lì nel corso della gara. E' un risultato sicuramente bugiardo che lascia l'amaro in bocca e i sostenitori atletisti che avevano visto da subito i propri benemini cingire da sedio gli ospiti sino al capolavoro di Re Giorgio Corona che fa letteralmente ammattire i difensori Granata segnando uno dei gol più belli di questa stagione che manda invisibilio la parte di tifoseria dell'Atletico Catania. Il repentino vantaggio pone la gara sui binari migliori per gli uomini di Infantino che hanno la possibilità di raddoppiare in più di un'occasione ma le conclusioni del tridente atletista sono imprecise. La partita che ha attirato una buona cornice di pubblico è sentita e combattuta e dopo i primi 20 minuti iniziali giocati da un ottimo atletico Catania inizia a venire fuori la squadra ospite che nel giro di tre minuti assesta un 1-2 letale per gli atletisti che determinerà il continuo della gara. La Cireale nella ripresa subisce la vehemenza dell'Atletico che cerca di impattare la gara. Ci prova da ambo i lati la formazione di Infantino nel cercare di trovare gli spazi in un'attenta difesa rinchiusa come quella della Cireale. Inevitabilmente l'Atletico finisce per scoprirsi e subisce in contropiede la terza rete. E' un colpo durissimo che mette in ginocchio i ragazzi di Infantino che però con orgoglio e grinta combattono sino alla fine della contesa che a 5 minuti dal termine grazie al gol di Concialdi vede diminuire il passivo. I restanti minuti di recupero non servono a recuperare la partita che finisce 3-2 per la Cireale, una partita davvero sfortunata per gli uomini di Piero Infantino.